Una rassegna di poesia ospitata ogni quattro venerdì del mese fino a maggio a casa Pasquinelli in via Licola Fabrizi in centro a Pescara, luogo dove l'amore fra l'arte e la cultura si respira a pieni polmoni e questa è l'iniziativa che il direttore artistico del Poetry House Festival, Beniamino Cardines, ha presentato questa mattina a Palazzo di Città. Dieci autori, poeti, scrittori e scrittrici che sono il meglio della nuova letteratura abruzzese contemporanea, anche emergenti e abbiamo pensato questo, che se la cultura non riparte dal bisogno di una casa, noi saremo sempre abituati a pensarla nei luoghi preposti che poi però rimangono vuoti e allora pensiamo che ci sia un bisogno perché è da, come dire, la casa che poi possiamo immaginare e progettare una società nuova e infatti non saremo solo lì ad ascoltare poeti e scrittori ma dalle loro parole nascerà sempre una domanda rivolta a chi sarà presente, al pubblico. La coordinatrice del progetto Annarita Pasquinelli spiega come è nata l'idea di riaprire la dimora di famiglia. Devo dire che questo progetto mi ha molto molto entusiasmata per un duplice motivo, sia perché si riapre una casa sia per una casa alla cultura, sia perché, diciamo, ci sono delle cose un po' sentimentali, nel senso mia madre era una professoressa ma era un amichetti, quindi parente di Vicentino Michetti e quindi collegata molto con la cultura. Noi fin da piccoli abbiamo sempre, io e i miei figli, sempre parlato di cultura, di queste cose e tant'è vero che sono felice di riaprire e dar vita ad una casa che fino a poco tempo fa era rimasta come i miei l'avevano lasciata, quindi tipo museo. Ed è anche giusto quello che dice appunto Beniamino che la cultura inizia dalla propria casa.